amore a prima vista i mobili della fonte del rustico sono così li vedi e ti accorgi subito come la tua casa può diventare ricca e accogliente perché sono fatti tutti in legno massello pregiato e con il loro calore con il profumo del loro legno ogni momento che arrivi in casa diventa più piacevole camere in noce nostrano cucine in castagno soggiorni in ciliegio tabernette in rovere ambienti così anche su misura li trovi solo in un'unica originale esposizione la fonte del rustico di boella a costigliore d'asti frazione boglietto aperto la domenica chiuso il lunedì la sfortuna si accanisce e mia moglie ne patisce vedo tutto da quassù moro elettrica è laggiù lavatrice compra orsù moro elettrica se vuoi mette i prezzi che tu puoi così compri quel che vuoi grandi arredamenti corvetto tutto per la casa per i tuoi regali ecco i nostri prezzi frigorifero ignis lire 399.000 cucina ignis lire 189.000 televisori philips lire 780.000 videoregistratori philips lire 884.000 i-fi philips lire 521.000 sedie lire 19.900 mobiletto in stile lire 96.000 eh sì questa è convenienza dal piccolo elettrodomestico al grande arredamento completo il prezzo è sempre il più conveniente grandi arredamenti corvetto piazzale corvetto angolo viale martini san giuliano milanese viale liberazione 16 giuliano milanese viale